... Attenzione, state per connettervi con Radio Alta Musica, benvenuti a tutti e buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La musica dal vivo è tutta altra musica e lo slogan di Radio Alta Musica spesso ripetuto per presentare i brani, tra l'altro da concerti ed esibizioni live. Stasera ce ne sarà tantissima di musica dal vivo come pure due debutti in trasmissione e uno spazio dedicato a un grosso personaggio musicale che è mancato ultimamente. Si inizia live con i primi tre brani cominciando dal gruppo statunitense degli Iron Butterfly che eseguono dal vivo Butterfly Blow ripresi in un video del 1971. Forti come il ferro ma anche le giandri come il volo di una farfalla, questi sono gli Iron Butterfly, benvenuti a Radio Alta Musica. Grazie a tutti. 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 Prima debutto in trasmissione d'opera dei tedeschi Epitaph nati alla fine del 1969 anche essi presenti dal vivo con Early Morning come gli Iron Butterfly ripresi live in un video questo del 1972 per la prima volta a Radio Altra Musica di Epitaph I can see a rainbow flowing from the wall Many pretty colors can't you see them all Dancing like a golf field on a lovely summer day Silver shimmering waters flying through a night guitar solo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.